Ma com'è Mercoledì di Tim Burton? A proposito, chi è Tim Burton? Questo, in ordine sparso, eh? Mercoledì, Adams. Ora su Netflix, interpretata da Jenna Ortega. Un personaggio che verrà ricordato in futuro come uno dei personaggi top delle serie tv. Magnetica, intrigante e piacevolmente scostante. Insomma, parliamo di un personaggio difficile da dimenticare, che ti entra nella testa da subito. Dal momento che non è un adattamento della vecchia famiglia Adams, Mercoledì riesce a creare il suo mondo alle sue condizioni. Una costola geneticamente modificata, diciamo. Questo è un pregio, cari miei. Tim Burton è regista dei primi quattro episodi e il leggendario compositore Danny Elfman continuano ad andare perfettamente in sincrono. Non aspettarvi che Mercoledì sia così stravagante come une dalle pellicole del maestro. Ma l'aspetto gotico agrodolce, l'incrocio riuscito tra le atmosfere di Harry Potter e diciamo la sposa cadavere, ve ne faranno sicuramente innamorare. Tralasciando alcuni piccoli difetti, tra cui triangoli amorosi e scelte forse un po' troppo team, Mercoledì è un vero gioiellino. Per i giovani fan dell'horror in erba. Che cercano però un grande passo avanti rispetto alle solite banalità. Il cast è per lo più azzeccato e la scenografia ha la giusta quantità di esagerazione. Esagerazione e pomposità tipicamente bartoniana. Infine la trama è un convincente incrocio tra misteri e giallo. Il tutto condito da piccole spruzzate horror che faranno di quest'opera uno spassoso intrattenimento. Assolutamente da gustare. Guardate. Vi voglio bene.